Grazie Presidente. Caniglia anche la dichiarazione di voto, no? C'è gente anche che saluta i familiari a casa. Allora, Presidente e Assessore, qui c'è un problema di pianificazione e programmazione che è in capo agli uffici comunali. E questo è ancora più grave in questo caso, perché qua si parla che il Ministero nel 2015, sapendo che le amministrazioni hanno difficoltà di personale tecnico in grado di sviluppare la progettazione, ti dà 7.900 euro nella seconda municipale per l'attività di supporto alla progettazione. 2.000 è qui. Servizi di supporto alle attività delle pubbliche amministrazioni. Supporto alle attività... ho capito. Ma siccome il nostro problema è la rendicontazione, per la quale noi ogni sei mesi riprogrammiamo perché non sappiamo rendicontare, allora noi il supporto alla rendicontazione dobbiamo farlo nel 2016, anzi nel 2015 quando ci danno i soldi. Non poi nel 2016 la Municipalità chiede al Comune chiedete al Ministero se possiamo utilizzarli. e loro ti dicono, guarda che non c'è bisogno del nostro nulla osta, tu li puoi già utilizzare, devi soltanto seguire delle indicazioni che le anticipi eventuali devi fare la rendicontazione. Quindi è un problema, come sempre, assessore, che non sappiamo programmare e pianificare nulla. il problema è che non sapendo pianificare e programmare nulla arriviamo poi, cara grazia, a finire i lavori che vuol dire attività nuove, estensioni di orari e addirittura nuove aree di asili nel 2020. Quindi perdiamo sempre un anno, due anni. Se per voi questo non è un problema, se per voi questo non è un problema, non è un problema da discutere in sede di bilancio, è un problema da discutere in sede di commissioni di organizzazione della macchina comunale, che non funziona. Non funziona. Cioè, sui fondi PAC, andiamo a vedere poi anche nel bilancio, di previsione, quello di rendiconto, nell'assestamento, quanti sono le variazioni di bilancio perché la programmazione dei PAC viene fatta in modo errato. Ancora oggi vedo, e poi lo vedremo nelle delibere successive, modifiche degli orari. Sappiamo benissimo che quello non lo faremo, perderemo quei soldi e questa volta non li potremo neanche rimettere in 2020. Per cui come si fa a votare queste delibere? Come si fa a votare queste delibere? Votandosi a queste delibere, è come se noi dicessimo va bene la modalità sbagliata che ci porta a perdere finanziamenti, che riusciamo a recuperare solo perché il Ministero, le economie di spesa, che non sono quanto siamo stati bravi a risparmiare, ma come non siamo stati bravi a spendere tutti i soldi che ci hanno dato, li rimettono in pista. E se andiamo a vedere nell'assestamento, i riparti e le modifiche al bilancio di previsione sono su tutte le municipalità, tutte, ad alcune addirittura per l'80% dell'importo. Vuol dire che non sono stati capaci in tre anni di programmare, pianificare e finire l'attività. Questo vuol dire che rischiamo di perdere decine di milioni di euro, perché sono un milione di euro circa a municipalità. Per cui scusate, ma noi non possiamo proprio votare queste delibere. Ma non perché non vogliamo i fondi PAC, ma perché se oggi siamo in sede di bilancio, a livello di bilancio è inaccettabile continuare ad andare avanti così. È un segnale che diamo della cattiva amministrazione. Grazie.